Musica Buonasera, buonasera a voi tutti ben ritrovati dall'informazione di Vercelli Web TV è venerdì 9 marzo. La cronaca sono state di recente riqualificate alcune palestre delle scuole vercellesi con due intenti principali, facilitare la fruibilità delle scolaresche e rispondere alla domanda delle società vercellesi che necessitavano di spazi per allenamento per pallacanestro e pallavolo. Alla scuola Pertini di Corso Tanaro sono stati posizionati due canestri mentre alla Rodari di Via Borsi due canestri e un impianto volley a palo unico completo di tendirete. Il comune interverrà alla scuola Verga col montaggio di sei spagliere, alla scuola Gozzano con un nuovo impianto volley trasportabile, al campo di atletica Zandano Coni dotandolo di un tellone di copertura per la zona di salto con l'asta, al palapiacco di Via Donizzetti con due reti per calcetto, due reti per pallavolo agonistica, quattro reti per la pallavolo d'allenamento. I lavori sono parte di un progetto di riqualificazione partito nel 2015. Voltiamo pagina, da domenica inizia la settimana mondiale del Glaucoma. Per Vercelli ci presenta l'evento Alberto Mugni, consigliere dell'Unione Italiana Cechi. La settimana di prevenzione del Glaucoma è un'iniziativa realizzata dall'Agenzia Internazionale di Prevenzione della Cecità, detta IAPB, che organizza per l'Italia tutta la prevenzione per la malattia del Glaucoma, una malattia importantissima perché è asintomatica. Quindi se non accuratamente analizzata con la prevenzione, diagnosticata con la prevenzione, è veramente difficile sapere di averla. Nella settimana di prevenzione del Glaucoma, l'Unione Italiana Cechi di Vercelli ha l'obiettivo principale di sensibilizzare proprio verso questa patologia e verso l'attività di prevenzione. Non realizzeremo proprio visite in SEPA che la facciamo già tutto l'anno. Noi gli ultimi giovedì del mese, di ogni mese, presso il nostro centro di riabilitazione visiva, vengono realizzate proprio le visite di prevenzione e di screening. Quindi è un'attività che noi realizziamo con orgoglio tutto l'anno in collaborazione con l'ASLE. Si terrà domani sabato 10 marzo anche in caso di pioggia la marcia sui binari per chiedere la riapertura della linea ferroviaria Arona-Santià. La camminata rappresenta un momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica a favore della riapertura della linea ed in generale della esigenza di garantire al territorio un adeguato servizio di trasporto pubblico locale. La marcia partirà dalla stazione di Gattinara per raggiungere Romagna-Nossesia, una camminata quindi di circa 3 chilometri lungo la ferrovia sospesa da più di 6 anni. E riprende a Casale il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade. Ce ne parla Massimo Iaretti in questo servizio. Il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade, che era stato sospeso negli scorsi mesi per non rendere vanno lo spargimento del sale, che era disposto per contrastare le gelate notturne, riprenderà a partire dal lunedì 12 marzo. La ripresa del servizio era stata originariamente in programma per lunedì 5 marzo, ma era stata posticipata dopo le neviccate che hanno interessato il territorio comunale negli ultimi giorni della passata settimana. Il Museo Borgogna di Vercelli ha presentato oggi un nuovo prestigioso acquisto che costituisce un arricchimento per la collezione della Pinacoteca Il Servizio. Oggi il Museo Borgogna è più ricco. È pervenuta una bellissima tavola di Gerolamo Gevenone, l'adorazione del bambino con i santi Francesco e Saldassisi e Antonio da Padova, che voi vedete alle mie spalle. E questo è come mai è pervenuta? È pervenuta perché abbiamo la banca Patrimoni Sella, che è amante dell'arte e del bello e che vuole far conoscere il bello e l'arte a tutti. e questa Patrimoni Sella aveva acquistato questa tavola, l'ha fatta restaurare, tutta a posto e adesso ha deciso di darla in deposito al Museo Borgogna. La cronaca si ferma qui prima di passare allo sport, ci fermiamo per la pubblicità. Il ruolino di marcia delle ultime partite si equivale tra la Pro Vercelli e il Bari che si incontreranno domani per il campionato di calcio di Serie B. L'intervista. Sì, affrontiamo secondo me, l'ho sempre detto, una squadra che più mi ha impressionato ogni giorno che mi è andata, per qualità di gioco, per organizzazione. Quindi sappiamo che vengono da un buon momento, sappiamo tutto, come sappiamo che abbiamo fatto il pessimo primo tempo a Cesena, che abbiamo rivalutato stamattina con attenzione, ancora di più in negativo di quello che poi ci è sembrato. Quindi dobbiamo fare una partita perfetta, come dico sempre, quando affrontiamo certe squadre. E domani sarà una partita chiaramente importantissima per noi, come sarà per loro, e dobbiamo limitare al massimo gli errori. E con la seconda piazza in campionato acquisita e di problemi societari quasi risolti, l'amatore Vercelli si prepara per la trasferta di domani sera, valida per il campionato di hockey su pista di Serie A2 a Modena. Con che spirito ha affrontato il trasferto di Modena? Innanzitutto dobbiamo cercare un attimo di cancellare tutto quello che è successo. Come ho già detto, non sono problemi che riguardano i giocatori. Noi dobbiamo pensare alle partite, dobbiamo pensare a raggiungere gli obiettivi e ad allenarci bene tutta la settimana. I problemi extra, abbiamo un assetto societario, abbiamo nuove persone che sono entrate e penso che sia il loro compito risolverle per il meglio. E' doveroso, purtroppo come nel calcio, siamo una famiglia, dal bimbo piccolo al giocatore più grande. Anche il bimbo più piccolo comunque deve essere tutelato come il giocatore come me. Quindi non è diverso solo perché ha 5, 6 o 7 anni. E questo viene ahimè dimenticato, passa in secondo piano e dopo possono succedere anche queste cose. Molto bene, il nostro giornale si ferma qui. L'appuntamento sarà lunedì alle ore 19. Grazie per averci seguito. A presto. Grazie. 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 Grazie.